Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia. In studio Cesare Martignon. Il traffico si presenta regolare in tutta la rete stradale e autostradale della Toscana. In FIPILI per miglioramenti della sicurezza sul viadotto del Turbone sono possibili disagite a Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Percorso alternativo sulla strada provinciale 12 della Val di Pesa. Al via, dal lunedì 6 aprile, gli interventi in via Golodati e in via Vespasiano da Bisticci a Firenze, con restringimenti di carreggiata e di vieti di sosta rispettivamente nei tratti via Vespasiano da Bisticci numero 11 e tra i numeri civici 23 e 13. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo che partiranno in settimana lavori di ripristino in via De Sanctis e in via Palazzo dei Diavoli, lavori di posa di fibra ottica in via Chiantigiana e alla rete fognaria in via Orte e Ricellari. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!